Da oggi sino al 15 settembre parcheggia a pagamento anche sul Riviera, nel tratto che va dalla nave di Cascella sino al confine con Montesilvano. Un euro l'ora sino alla quinta ora oppure 5 euro per l'intera giornata. In alternativa si possono fare gli abbonamenti. Il primo giorno è stato così. Primo giorno di sosta a pagamento, la sua reazione? Tranquilla? Non sapevo che fosse gratis prima, quindi me lo sta dicendo lei, lo apprendo adesso. Adesso però dovrà provvedere a fare il biglietto? Va bene. Fa tutto tramite cellulare? Sì, eccolo qua. Una cosa utilissima? A mio avviso sì, soprattutto se il tempo come nel mio caso non è definito, dove sto e posso dover prolungare la sosta. Come si fa? Con l'app EasyPay ci sta la possibilità di pagare tramite app e quindi io faccio così, collegato a un account Paypal. Se questi soldi dovessero servire per fare meglio i marciapiedi e tutto quanto, beh venga. Pertutto il comune da qualche parte anche gli introerti li deve prendere. Bisognerà capire anche la reazione dei clienti? Sicuramente, poi molti clienti si lamenteranno, mi sembra una cosa assurda. Hanno detto che fino al 15 settembre sarà così, quindi tutte le state lei faccia il conto per me da lavorare, tutte le state quanto mi se ne... Sono un uomo, come si dice, fortunato. Fortunato, ha ragione perché da oggi si paga sulla riviera. Sì, ma io la riviera non... cioè ci vado a piedi e basta. C'è la macchina, c'è l'abbonamento sull'area di risulta che non è da poco, però da residente. Oggi già avendo slittato di un giorno il rinnovo ho trovato una fila che veniva fuori dalla biglietteria. Comunque l'ho fatto, vabbè, si sa che poi d'estate le cose si complicano sempre in questa città. Alcuni posti sul lato monte della riviera nord resteranno gratis, ma saranno riservati esclusivamente ai residenti. I cittadini avranno la possibilità di acquistare abbonamenti settimanali a 10 euro, oppure mensile o bimensile a 40 e 60 euro. Questi ultimi due riservati però ai residenti. Benedetto Gasbarro, amministratore unico della Pescara Multiservice. Come primo giorno, quali sono le reazioni? Da questa mattina stiamo facendo una ricognizione adesso in questa parte nord della città, c'è una buona affluenza. Diamo tutte le delucidazioni del caso agli utenti in modo tale da avviare definitivamente questa stagione estiva. La particolarità di questi abbonamenti, che non sono abbonamenti che partono, che hanno una valenza mensile, diciamo primo giugno, 30 giugno, ma uno li può sottoscrivere anche durante il mese di giugno e la validità è comunque per 30 o per 60 giorni. Benedetto Gasbarro non darà neanche un euro all'amministrazione. Io sono qui per servizio. No, tra l'altro abito proprio in prossimità della riviera, quindi è inevitabile che al mare vado a piedi. Sosta a pagamento, primo giorno? No, non siamo di Pescara. Siete venuti a piedi? Sì, da Francavilla. Addirittura? Certo. Però non ne usufruiamo perché usiamo, capito, il mezzo... Però, fa bene la salute. Certo, certo. Grazie. Buona giornata.